Si è tenuto presso la sede di Palazzo Mainenti a Vallo della Lucania l'incontro tra l'ente parco con il presidente Tommaso Pellegrino e il direttore romano Gregorio e i sindaci dei comuni di Gioi, Moio, della Civitella, Orria, Perito, Salento e Stio. Motivo dell'incontro il recente decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali con cui viene approvata e finanziata la proposta progettuale denominata Montagna Produttiva. Il progetto è finalizzato all'efficientamento della filiera Castanicola, alla promozione delle aree boschive e della viabilità minore, al turismo green e alle attività ludiche e sportive che possono essere realizzate nelle aree montane. La valorizzazione, la promozione e la tutela del patrimonio naturale e paesaggistico del territorio montano rappresentano un impegno costante del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ha dichiarato il presidente dell'ente Tommaso Pellegrino. Il progetto, che vede la montagna protagonista, rappresenta una significativa opportunità per sviluppare e realizzare buone e utili pratiche di sostenibilità ambientale che possano diventare un modello di valorizzazione, di conoscenza del patrimonio naturalistico e paesaggistico della nostra montagna. E nostra intenzione, continua Pellegrino, di coinvolgere il più possibile i giovani, anche attraverso l'utilizzo di una tecnologia moderna e innovativa. Ringrazio il direttore del Parco e i sindaci dei comuni aderenti per aver intrapreso tale iniziativa che certamente si pone l'obiettivo di realizzare un progetto pilota e virtuoso, di valorizzazione del patrimonio naturalistico e paesaggistico di alcune aree montane del nostro Parco. Ha concluso il presidente Tommaso Pellegrino.